Nei giorni scorsi un gruppo di calciatori e presidenti si sono riuniti sotto un'unica bandiera per poter portare al ministro dello sport Vincenzo Spadafora le proprie stanze per far capire che il calcio dilettantistico e giovanile non può attendere marzo per ripartire. Una situazione delicata col paese ancora nel bel mezzo di una pandemia che sta mettendo a dura prova il tessuto economico e sociale. Nella mattinata capitani ed allenatori partecipanti ai campionati regionali di eccellenza e promozione hanno indirizzato al calcio campano e al calcio dilettantistico nazionale sollecitando il ministero dello sport e il dipartimento per lo sport presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per la ripartenza dell'attività agonistica. L'obiettivo è di adottare il protocollo medesimo che riguarda il campionato di serie D. Ovviamente bisognerà tutelare la salute pubblica e soprattutto in pieno rispetto delle regole. Carmine Zigarelli, presidente del Comitato Regionale Campania, nella giornata di venerdì incontrerà in video call le diverse società per fare il punto della situazione. Nel frattempo un dato eloquente arriva dal Comitato della LND Lombardia timonato da Carlo Tavecchio. Sul tavolo della riunione nei giorni scorsi c'è stata la ripartenza del campionato di eccellenza su una possibile data fissata per il 21 marzo con annessi recuperi quelli della stagione tra il 3 e il 2 giugno. Sarebbe la finestra al quale disputare il nuovo campionato. Il calcio dilettantistico freme per tornare in campo quanto prima.